Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale approvato il bilancio di previsione 2017 al termine di una seduta a fiume durata 12 ore. Sono due i voti contrari, quello di Alessandro Acquaviva e Salvo Sorbello. Si è astenuto il consigliere Dario Tota, votata maggioranza l'immediata esecutività. Lo strumento finanziario di previsione ha superato l'esame dell'aula senza modifiche rispetto all'impostazione dell'aggiunta e della maggioranza. Sono state in tutto quattro le variazioni provate, compreso il maxi emendamento firmato ad affortunato minimo e sostenuto dalla maggioranza. Non interviene in modo sostanziale sulla proposta, ma la adegua rispetto ad alcune entrate arrivate successivamente al 19 luglio, data in cui il bilancio è stato trasmesso dagli uffici al Consiglio Comunale per iniziare l'iter di approvazione. Si tratta soprattutto di finanziamenti europei, regionali e nazionali, in particolar modo dal CONI e dal CIPER, somme che sono frutto di partecipazione a bandi, come nel caso di Agenda Urbana o il Bando sulla riqualificazione delle periferie, o in parte destinate alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. Unica spesa aggiuntiva è il mutuo da 1.400.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria sui campi di calcio di Via Lazio, 900.000 euro, e Via Pachino per 500.000 euro. Gli altri emendamenti approvati portano la firma di esponenti dell'opposizione. Castagnino e Allota sono riusciti a ottenere 8.000 euro per i rimborsi al carburante per le associazioni di volontariato prelevati dal capitolo sulle iniziative per i 2.750 anni della città e 13.000 euro per la realizzazione del marciapiede in Via Carlo Forlanini, tolti a una voce destinata alla promozione culturale. L'altra variazione porta la firma di Sorbello, che ha ottenuto di destinare l'ammontare dei gettoni di presenza da lui maturati per la partecipazione alle commissioni consigliari alla manutenzione della navetta per i disabili del Cimitero. E' stato trasformato in raccomandazione un emendamento a firma di Gianluca Romeo, Alfredo Foti, Francesco Vappalardo e Stefania Salvo, che prevede l'istituzione di un capitolo di bilancio per fondi da destinare alla Proloco. Introiti per 260 milioni di euro previsti dagli uffici del Comune per il bilancio di previsione 2017. Le entrate previste al bilancio del Comune Capoluogo ammontano a circa 260 milioni di euro, delle quali 96 quelle tributarie, 26 quelle da trasferimenti, 20 le extra tributarie, 21 in conto capitale e 100 provenienti da anticipazioni di tesoreria. Le uscite, circa 170 milioni, riguardano per 120 milioni le spese correnti, 31 quelle in conto capitale, oltre agli accantonamenti, ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali. Tra gli investimenti, 1 milione e 200 mila euro serviranno a migliorare le strade come Via Siracusa, Grotta Santa, Via Lepipoli. Poi c'è la manutenzione straordinaria dell'impiantistica sportiva con i fondi coni per il di Natale o quelli del Patto per il Sud, che cambiando da mutuo a finanziamento, le spese per lo stadio Nicola Desimone hanno permesso un risparmio. Sui campi di Via Lazio si interverrà per 900 mila euro e per 500 mila euro in quelli di Via Pachino. Mutui a tasso zero del credito sportivo serviranno per gli impianti di Belvedere e Cassibile. Inoltre ci sono 300 mila euro per l'edilizia scolastica, grazie a Italia e alle indennità dei consiglieri comunali. Un incremento del fondo di rotazione dedicato alla progettazione e un impegno di 200 mila euro per interventi sul cimitero. Attivare una piattaforma comune per i problemi della zona industriale si sono riuniti questa mattina i sindacati in cassa edile. In zona industriale il sindacato si ricompatta intorno ai temi più scottanti che riguardano il comparto edile chimico e metalmeccanico, investimenti, sicurezze e appalti in primo piano. Noi oggi abbiamo deciso di riunire i nostri consigli direttivi in maniera unitaria, chimici e metalmeccanici ed edili perché riteniamo che sia arrivato il tempo di rilanciare la questione industriale in questo territorio affrontando sia le problematiche di carattere generale ma fondamentalmente noi vogliamo soffermarci su tre temi. Principalmente gli investimenti. Noi dal confronto con le controparti siamo venuti a conoscenza che ci sono dentro i cassetti delle grandi multinazionali dei progetti di investimenti per questo territorio che è una delle grandi richieste che il sindacato fa da tempo perché vogliamo che si investa in ammodernamento tecnologico e nuovi impianti per guardare al futuro con maggiore ottimismo. Purtroppo la nostra zona industriale negli ultimi anni si è resa protagonista in quanto a sicurezza e a incidenti sul lavoro e considerando anche che spesso magari nelle piccole aziende nei subappalti o perlomeno nei contratti generici che vengono assegnati a costo molto basso spesso purtroppo le aziende recuperano i costi aziendali sulla sicurezza. Questo non è più possibile poterlo permettere e quindi abbiamo deciso è un altro punto fondamentale di questa piattaforma. Io intanto devo dire che questa riunione di oggi è una riunione che rimarrà nella storia perché per la prima volta siamo riusciti a riunire le tre categorie dell'industria quindi chimici, meccanici e dei diri che ci sta vedendo insieme uniti per tre temi fondamentali come dicevano i miei colleghi investimenti che sono le cose fondamentali di questo territorio la sicurezza e poi alla fine gli appalti che da anni il sindacato soprattutto di meccanici diciamo dell'indotto e anche gli edili ci vediamo insomma costretti ad andare a breccetto per appunto dare un segnale forte a questi diciamo committenti che è arrivato il momento di entrare in una logica che il ribasso degli appalti porta poi anche a una serie di riduzione dei diritti dei lavoratori. Prodotti e aziende del territorio sui mercati nazionali e internazionali è il progetto della Camera di Commercio di Siracusa che rilancia così l'idea delle esposizioni su larga scala. Rilanciare aziende e comparti imprenditoriali dopo la nascita della Super Camcom la Camera di Commercio per questo ha messo allo studio iniziative e programmi per aprire il territorio alle esposizioni nazionali e internazionali. Riparte la Camera di Commercio anche con una serie di attività da mettere in campo e i prodotti locali e territoriali da esporre letteralmente quindi in questo senso si cerca anche un rilancio delle produzioni locali. Sì, ho voluto questa riunione e ho pregato la dottoressa Risto di confocare i nostri imprenditori nel comparto riguardante olio moscato, limone femminello il pomodorino di pacchino e altri in generale perché voglio invitare il nuovo Presidente della Camera di Commercio il dottor Agen a venire a Siracusa e avere un colloquio con questi nostri produttori perché nel passato voglio ricordare che la Camera di Commercio di Siracusa ha promosso per diversi anni attività promozionale di tutti i nostri produttori abbiamo messo a disposizione delle finestre importanti in tutte le fiere nazionali e internazionali per dare l'opportunità ai nostri produttori di essere presenti. avete fatto già una sorta di mappa dei luoghi dove è possibile fare tutto questo? Sì, noi preferiamo sempre andare nelle fiere non campionare ma quelle di settore per esempio ora ci sarà quella dei vini nel passato abbiamo avuto anche i nostri produttori di olio, di bucchiere che sono stati premiati hanno vinto i primi posti insomma vogliamo dare l'opportunità anche ai nostri produttori di far conoscere i propri prodotti e farli conoscere principalmente anche all'estero perché ci sono dei mercati nuovi. Bentornati, bentornati seconda parte del nostro telegiornale la cronaca alla guardia di finanza di Siracusa ha arrestato un pluri pregiudicato siracusano e ha esibito il sequestro di 47 dosi di cocaina pronta per lo spaccio il 22 giorno 22 militari della compagnia di Siracusa hanno sottoposto a controllo un pregiudicato nella zona di via Unione Sovietica stava frugando all'interno di un'intercapedina ricavata tra un muro di cinta e il quadro contatori di un condominio appena visto i finanzieri ha tentato di disfarsi di un contenitore sono arrivati i militari e hanno appurato che all'interno del contenitore c'erano appunto 47 involucri di plastica contenenti sostanza stupefacente si trattava di cocaina e l'uomo è stato arrestato quindi in fragranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sindacati e la rete delle associazioni insieme per animare il corteo per la legalità muove il 30 novembre parte da piazza Santa Lucia la società civile risponde alla recrudescenza del fenomeno dei danneggiamenti CGL CISL UGL e rete delle associazioni hanno confermato la data del 30 novembre per il corteo per la legalità già annunciato nei giorni scorsi l'iniziativa di sensibilizzazione prenderà il via alle 16.30 con il concentramento in piazza Santa Lucia per poi procedere in corteo che coinfluirà in piazza Archimede davanti alla prefettura una delegazione sarà quindi ricevuta dal prefetto Giuseppe Castaldo a cui verrà consegnato un documento la manifestazione punta a riaccendere riflettori dopo i recenti episodi criminali sull'allarme segnale della risposta del racket l'iniziativa vuole anche essere un focus sul lavoro la cui offerta è sempre più un calo e questa crea inevitabilmente le condizioni sociali ideali per il proliferare di sacchie in cui il crimine può pescare nuova manovalante spiegano così i segretari i sindacali generali Roberto Alosi Paolo Sanzaro Stefano Munafò Antonio Gagliotto il nostro territorio è popolato da disoccupati precari lavoratori in nero giovani senza futuro migranti spesso trattati come schiavi per questo non deve sorprendere che il concetto di legalità vada man mano sfumando chi non si sente tutelato nel diritto principale sancito dalla Costituzione ovvero il lavoro si ritrova senza prospettive e lontano da quelle condizioni che possono dare speranza per questo siamo certi che la ripresa dell'occupazione sia l'arma più efficace per il ripristino della legalità la cronaca ancora i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato e condotto in carcere un diciottenne si tratta di Adriano Pirrone Siracusano detenzione di sostanze stupefacenti nella sua abitazione in un armadio chiuso a chiave c'erano tre pistole giocattolo due confezioni di cocaina per 17 grammi e poi ancora 180 grammi di marijuana sette panetti da 100 grammi ciascuno e altre confezioni sempre di marijuana 907 grammi di hashish la polizia invece ad Ortigia ha eseguito un mandato di vieto di avvicinamento emesso dal GIP di Siracusa e ha notificato l'aggravamento della misura cautelare con arresti domiciliari per una donna una ventottenne perché è ritenuta responsabile di atti persecutori nei confronti della compagna del proprio padre e ancora per la cronaca andiamo questa volta a Lentini hanno eseguito un provvedimento del questore di Siracusa ai poliziotti del commissariato che dispone la sospensione dell'attività per dieci giorni nei confronti di un titolare di un bar questo perché la sera di giorno 17 accanto all'attività commerciale del 68enne è stato colpito da colpi d'arma da fuoco poi il provvedimento è stato adottato per prevenire ulteriori possibili fonti di pericolo a garanzia di interessi pubblici il GIP del tribunale Andrea Migneco ha convalidato l'arresto di Francesco Toscano fermato dai poliziotti e la mobila in possesso di due pistole resta in carcere Francesco Toscano il 52enne ritenuto dagli inquirenti esponente del clan Bottaro Attanasio arrestato martedì dai poliziotti della squadra mobile perché trovato in possesso di due pistole clandestine Toscano è comparso davanti al GIP del tribunale a Retuseo Andrea Migneco che nel convalidare l'arresto ha disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare in carcere sposando la tesi sostenuta dal PM Marco Di Mauro Toscano ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità rispetto alla detenzione delle due armi anche se non si è spinto oltre la scoperta delle pistole avvenuta nell'ambito dei controlli che le forze dell'ordine stanno facendo a seguito della sfilza di attentati incendiari e dinamitardi nel capologo una verifica scattata nei confronti di Toscano qualche ora dopo avere constatato i danni provocati da un incendio alla palestra di via Luigi Spagna il controllo come si ricorderà è scattato in tarda mattinata quando i poliziotti della mobile si sono recati in un'officina meccanica dove Toscano lavora nell'eseguire la perquisizione gli investigatori hanno trovato nelle vicinanze una pistola semi-automatica calibro 7,65 con matricola a brasa il cui possesso hanno attribuito all'indagato che è stato condotto negli uffici della questura nella successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto un'altra pistola calibro 38 a tamburo sempre con matricola a brasa nascosta in un muretto di cinta alto poco più di un metro del giardino della casa dell'indagato automatizzazione in banca è conseguente pericolo per i posti di lavoro e quanto sostiene la Fabi che scende in campo bancari sul piede di guerra contro l'eccesso di automatizzazione negli istituti di credito la Fabi chiede una mediazione per tutelare i posti di lavoro un momento di riflessione e di progettualità per la Fabi che è il principale sindacato dei bancari in Italia e in provincia di Siracusa che rinnova le cariche ma anche ospita il segretario generale Lando Maria Sileoni che ci darà gli ultimi aggiornamenti sulla situazione delle banche italiane sulle problematiche legate alla difesa dei posti di lavoro in modo particolare e su quelli che sono anche gli aspetti legati all'impatto sulla collettività ovviamente il congresso provinciale tratterà temi riguardanti aspetti sia locali che aspetti di natura generale gli aspetti di natura generale saranno trattati dal segretario generale Sileone per quanto ci riguarda ovviamente ci soffermeremo sullo stato di salute delle banche a Siracusa banche che anche qua visto che si va sempre più su nuove tecnologie sul digitale eccetera anche qua si appresta a chiudere degli sportelli lo ha fatto Unicredit oggi chiude Augusta Agenzia 2 e chiude Solarino lo ha fatto la banca agricola popolare di Ragusa qualche settimana fa su Augusta e ora su Siracusa attendere nel primo semestre del 2018 lo farà anche Monte Paschi di Siena questo qui ovviamente erode posti di lavoro e noi riteniamo ed è uno dei temi che batteremo nel nostro congresso siamo a favore della tecnologia e del digitale perché per noi si possono attraverso questi sistemi sviluppare nuova occupazione mentre i banchieri la vedono in un modo diverso e quello che ha più tecnologia corrisponde a una versione di posti di lavoro e questo noi non siamo d'accordo e al tavolo negociale all'interno dei vari incontri che ci saranno nelle varie aziende faremo capire la validità delle nostre ragioni manca l'acqua negli spogliatoi del campo scuola pippo di natale progetto siracusa per questo punta il dito contro l'amministrazione comunale da circa tre settimane gli atleti che frequentano il campo scuola pippo di natale lamentano la totale assenza dell'acqua calda negli spogliatoi ma anche la mancanza dei minimi requisiti per le condizioni igieniche la denuncia è di Ivan Scimonelli responsabile del settore sport del movimento progetto siracusa che si rivolge all'amministrazione comunale puntando il dito contro le mancate promesse un intervento che giunge a pochi mesi fine luglio dall'accordo firmato dal comune per reperire un milione di euro tra le risorse stanziate dal governo nel piano sport e periferie si parlava di un piano che intendeva promuovere la valorizzazione del territorio ponendo l'attenzione sulle aree più disagiate della città rafforzando il ruolo sociale dello sport come veicolo di ideali positivi e straordinario strumento di aggregazione e di inclusione progetto molto interessante sul piano dell'immagine spiega Scimonelli dove si prospettava un restyling completo della pista del campo scuola Pippo di Natale anche per ottenere il benestare dai regolamenti tecnici FIDAL per l'omologabilità e la certificazione dei manti sintetici per impianti di atletica leggera bello sulla carta ma ancora irrealizzato nella sostanza a ciò si aggiunge appunto che da tre settimane manca l'acqua negli spogliatoi condizioni dure dice Scimonelli che vivono quotidianamente anche le svariate associazioni sportive e dilettantistiche che vedono sempre più spesso i propri atleti amatori e sportivi di ogni genere allontanarsi per scegliere chi può strutture private progetto Siracusa si chiede quanto ancora bisogna attendere soprattutto a che punto è il lavoro dell'amministrazione comunale nel reperire i fondi tra le risorse stanziate dal piano sport e periferie tanto pubblicizzato ma ad oggi assolutamente disatteso l'assessore Coppa rassicura però che la gara per l'appalto dei lavori di manutenzione è stata giudicata e partiranno a breve gli interventi bene con questo è tutto il nostro telegiornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programma Grazie a tutti Grazie a tutti